castello fiabesco chi è che piange ecco chi piange non piangere calmati non piangere vieni guarda non piangere wow grazie bisogna prepararle la pappa serve il bollitore un pentolino di nuovo non piangere non piangere calmalo allora aiutami va bene preparo la pappa non piangere non piangere non piangere non piangere bisogna aggiungere la frutta e le bacche la pappa la pappa è pronta a tavola adesso ti do da mangiare adesso ti do da mangiare si è sporcata si è sporcata ora non si sporca vuoi darle da mangiare vuoi darle da mangiare? non piangere giochiamo giochiamo non piangere non piangere non piangere non piangere non piangere non piangere